Salve a tutti amici e ben trovati, sono Imo Smith e eccoci qui per un episodio di Crusader King's Trail, si, l'ho accorto l'imperatore Costantino VIII, lo scolaro kind dell'impero romano. Un grande imperatore che ha creato un impero davvero molto grande grazie anche alle vassalle che hanno conquistato quando l'imperatore non conquistava e ora abbiamo un impero che va dall'Hispania fino alla Persia, dalla zona della Russia più settentrionale fino alla zona quasi equatoriale. Un impero grande e immenso che però manca di qualche tassello per sentirmi più felice, ossia quelli che hanno svecchi territori, ossia Taret e Egitto e Mesopotamia, magari un po' di Francia o Ternigia che non fa mai male e infine poi arriva dall'Indo. L'ha visto qui l'impero che possiamo creare per poter così avere la possibilità di magari di vassalizzare qualche regno che dica o che rai vassalizzare perché sono sotto il tuo impero, ma eh no? E la giornata della Russia qui è molto guturiosa. Abbiamo creato anche molti ducati, cioè tutti quei ducati che ci devono creare l'abbiamo creati tutti in toto così da poter avere finalmente un po' di tranquillità e noi finalmente vassalizziamo anche Egitto con un'ottima notizia perché così Egitto senza colpo ferire cade sotto il controllo dell'impero romano, ritorna anzi sotto il controllo dell'impero romano, mentre qui abbiamo varie giorni dell'Africa che potremmo conquistare, ma ripeto, è a quanto difficile. Io in questo modo volevo rendere, convertire, porto anche da io a che titolo che ho creato, che era di troppo, almeno a che titolo ducale che non posso rendere più di due, solo che stupidamente ho creato più la conversione e poi i ducati, se gli davo più i ducati e poi la conversione era meglio, ma vabbè ormai, i ducati a lui per liberarci non di questo pezzo, di questo honor e poi partire così con le nostre avventure, ora non si può convertire giustamente, ma vabbè, lasciano stare questo, c'è qui tanti eventi d'accorte, alcune ispirazioni che sponsorizziamo, sì, proprio i soldi, ma ci possono bastare, poi c'è qui qualcuno che cerca di parlare, qua c'è Fingerborns o Basileus, quindi c'è un evento di una, ci offrono una lancia del Basileus, che però è un falso e noi, dopo averle tutto questo, diciamo, vatti da quel paese, tu non sai chi sta a noi, io se rimani ancora qui, taglio la testa. E qui c'è un uomo gigante, che è il re del Pontus, che è davvero, anzi, despot, che è molto grande, e qui c'è un altro evento, che andiamo a vedere, che è The Garden of Aether, a cui potremmo dare questo Aether, che è anche un despot, che è un territorio, o un bonus in denaro, e non, ovviamente, scegliava il bonus in denaro, perché il Gita Vessina, non voglio darla, manca lì il nostro simbolo del Conto Madres, che però sta a trete, ma ci pensiamo mo', qui c'è un grazie per mettere quest'uomo sul trono imperiale, a posto mio, ed è che è sopportato dal suo caro fratello, questo despota qui, che così quasi, li ammazzano entrambi, ma vabbè, lasciano stare questo, lasciano stare questo, e tornano agli affari dell'impero, abbiamo qui altre fazioni militari, abbastanza pericolose, c'è un po' qui l'Italia, c'è l'Egitto, chiesa per giù, cioè, abbiamo arrivato già subito, fa fatto di fazioni, cioè, entrano solo per scombinare un po' i piani, ma è bello vedere come la costa del Mar Rosa sia tutto sotto il nostro dominio, qui Smallpox è stato guarito dalla nostra Physician, molto bene, altrimenti a cui il grande sacrificio che ancora non qui su è che ti sia un grande sacrificio che possiamo fare noi, quindi, questo è un tratto della, diciamo, della regione, però non andiamo a caccia, ma alla caccia di quelli, di quelle, diciamo, abilità di Hunter che non è male, e parte a mola con le guerre, la guerra altaretta, io vorrei tagliare lo capitale, e qui andiamo a caccia, penso, nel resportato del mio Romagna, e proviamo a prendere la capitale, c'è anche un degli URN che costa meno, ma, non spettanto, perché appunto vuole attaccare di più la capitale, e poi c'è quella parte centrale, così magari da destabilizzare il suo regno, il resportato che sia, e fare in modo che si frantume, o che perdi il titolo di regno di Taret, se magari poi in seguito anche potremmo vassalizzare, e parte la prima guerra, ma non ci basta, non ci basta mai, decido di fare altre guerre vicine, poi qui nella zona del sud, sotto il Marocco, questo piccolino si può conquistare, questo ducato più che il reddito si può conquistare, lo facciamo, e ancora non sazi di tutto questo, continuiamo a cercare qualche altro nemico, che non è possibile, ma questi piccolini qui, si possono vassalizzare, con molta calma, con non sciolazzo, quindi andiamo, col primo, e col secondo, che Alman si chiama, penso, dopo questo, penso di essere fermata con le guerre, perché poi dovrò andare un po' troppo a sud, non mi conviene spingere troppo a sud, perché poi avrei delle guerre troppo resistanti l'un dall'altra, perché qui la zona è desertica, quindi, ci dà molto malo sui nostri eserciti, e partiamo con questa bella guerra, partiamo da Modna, e si va ad attaccare con i Mediatars, e poi chiamiamo anche i nostri e le altre, dopo qui vassalizziamo anche il Darkfurt, cioè dopo che noi abbiamo potuto conquistare, si fa vassalizzare, che bella cosa, lo Tax e lo Levis, ma chi se ne frega, il Darkfurt è il nostro, vado qui, 3, 2, 1, che bello, un bel viola imperiale, un porpo imperiale, e nel frattempo si parte con questa guerra, altre potremmo fare, anche se c'è la possibilità di farne altre strade confinanti, al Darkfurt di fare altre guerre, ma partono con queste guerre, se non voglio crearle, non so è che, qua c'è l'ispirazione, altrimenti legate all'ispirazione, posso andare a passare l'Egitto, come il suo desiglio, sia Alessandria, Sine, altri territori che hanno tolto l'Egitto, per cercare di fare una guerra di vassalizzazione, ma alla fine non c'è stato bisogno di fare altre guerre, e il Darkfurt già entriamo in conflitto. Qui abbiamo altri soldati, altre guerre da fare qui intorno, come vediamo, ma per ora concediamoci qui sul Darkfurt, magari poi si farà lui personalizzare, chi lo sa, magari come Andorosia, come Egitto, sceglierà di passare la parte giusta. Qui potremmo fare, provare altre culture greche, nei nostri territori, partiamo a Siracusa, mentre qui integriamo qualche stato, e qua integriamo, penso sia giusto l'Italia, visto che è l'impero romano, è l'impero che nasce in Italia, l'Italia deve far parte ufficialmente dell'impero romano, il regno dell'Italia fa parte dell'impero romano. Andiamo subito alla capitale, speriamo di poter rubare quel banner che il maledetto Reddita Retto ci ha rubati, maledetto, mentre qui vediamo sono vari soldati, e decidiamo di chiamare qui un po' di leve per fare un po' di guerra, per non fare problemi, come ad esempio, allungare troppo la guerra, e se non attaccare i soldati nella città dei nemici, ci farà avere un World Score negativo, e quindi poi perdere la guerra, che non mi va. Quindi chiamiamo un po' di leve questa zona qui, e si parte anche ad attaccare questi maledetti. Ci vediamo un po' di stati per non cadere subito ai nemici, eccoci qui. Penso che una decina, ventina di ventina di mila uomini possono bastare, quindi apriamo il punto, soppiamo il reclutamento, e se attacca, perché non c'è più la possibilità di reclutare nella zona, c'è la zona di poco sicco dell'Africa centrale, io chiamo le leve di quei regnanti, di quei duchi, non chiamo tutte le leve che c'è in tutto l'imperio, mi sembra un poco esagerato, eh, però... Tanto Toretta è già caduta la capitale, molto bene, contiamo qui sono i nostri obiettivi, qua ci chiedono l'attefatto, che normalmente rifiutiamo, spiace non lo sia, ma quello lo sto usando, quindi col cavolo. Mentre il figlio del rete della Pannonia, il nuovo rete della Pannonia, si mette, pure lui, nel concilio con, non so come mai, con qualche ricatto, intanto l'ispirazione continua, chiediamoci di prendere qualcosa della nostra armeria, e noi concediamo questo, qui c'è un piccolo esercito di Toretta che stiamo reclutando vicino a noi, e noi perché non attacchiamo, ovviamente furbi qui il caro d'espo del Toretta, siamo ucciditi la vittoria, contiamo la conquista, mentre qui le leve ci sono, vediamo un po' di attaccare, e poi ecco qui, c'è un attacco qui, Aida, penso, non so come si chiama, e partiamo con l'assedio delle leve, che chiederà meno tempo, della città europea più fortificata, però c'è sempre più tempo rispetto, a come siamo in Mennetams, qui si recluta, nasce la cultura greco-egiziana, intorno di nuovo alla cultura greco-egiziana, nell'impero, chi se ne frega, qui continuiamo a costruire, che ormai siamo dei grandissimi costruttori, quindi perché no, e vediamo un po' di fine di queste guerre, il prima possibile, ok, prima guerra col Toretta vinta, noi stiamo però, riusciamo a creare un po' di monomori, nella città dei Toretta, nel regno dei Toretta, nel frattempo abbiamo troppe città, sempre conquistando, poi, vanno tutte a noi, e nel frattempo, noi stiamo arrivando lì, a Australand, a fare un po' di casino, spacchiamo tutto, figa, qui sono dei regni, che ne ho creato il Ducato del Toretta, se ricordo male è questo, la guerra è stata invalidata, quindi vediamo la possibilità di conquistare, per esempio, la regione di Auslan, hanno il regno, qui, se ultimano, che è stato annullato, no, no, questo c'è, questo rimane, quindi quella è la guerra che, si, finisce, contro l'Auslan, perché ora è, si è espanso, è stato sotto il dominio di un'altra donna, e quindi, la vassalizzazione, è fallita, noi poi abbiamo sempre una razza picolosa, perché abbiamo troppe città, ormai, si siano abituati a questo, e diamo i titoli, a chi potremmo darlo, a qualcuno, a sua famiglia, andiamo un po' a cercare qualcuno, e poi, c'erremo in internet, a, a, a chi, niente, alla fine scegliamo, se dice, un nome di cultura greca, o qualcuno, a sua famiglia, qui questo uomo, è, dei conto Mades, Mades, andremo nei tratti, non è re nessuno, quindi, potremmo dare a lui questi titoli, e lo facciamo così, un uomo, zelo, è, così giusto, è, starborn, qui nel regno, qui nel Ducato di Daret, potrà fare, nel mirato Ducato di Daret, potrà fare, potrà mantenere l'ordine, creiamo il titolo, e diamo tutto, sia il Ducato che anche la città, quanta città, possiamo dargli a quest'uomo, e così, noi siamo liberi, E3 si è creato, vediamo un po' che succede ora, al regno di Daret, vediamo che continuano queste guerre, contro i nostri nemici, ok, mi ricordiamo che questa pazza, che vuole usare il nostro ascia viola, e, come ispirazione, qui, c'è la guerra civile in Italia, la prima guerra, contro quel piccolo contello, l'abbiamo vinta, e rimane sotto, solo, il Marocco, vediamo che Daret, sia distrutto, c'è Gurma, che non sia il Ducato, e altri, che ne sono creati, da quel vecchio, regno di Daret, quindi alla fine, la nostra mostra, riprende la capitale, del regno di Daret, e ha funzionato, quindi, mi sembra giusto, la controcirco, su queste nemici, che ha un po' di leve, qui, alla fine, posso fare solo quello, mentre le metrame, sono in anfi a combattere, alla fine, le leve, non ci servono, cioè, le metrame, non ci servono, per sconfiggere, perché non so, vince battaglie, e non fare conquiste, mentre qui, c'è parte, un'ennesima, crociata del papato, nostro passaggio, per conquistare la Taringe, che non mi spiacerebbe, magari così, la Taringe andrebbe, a uno, sarebbe cattolico, che potrebbe conquistare tutta, però, intanto, Gourmas, non si può passare, ancora, siamo un poco arrabbiato, e vabbè, tanto, Auslan si è un po' espanso, questo impero, che non si può passare, questo regno, è un vero peccato, penso che faccia parte, del regno del Sara, quindi è possibile, che poi, in futuro, potremmo, conquistare, anzi no, non è rato, di Folligio, che fa parte, dell'impero, qui, del Kaun Baru, che sta in centro, e quindi, non si può passare, per questo, perché, Lecce, dove, c'è un 100% di, gradimento, vabbè, intanto, abbiamo qui dei nemici, a, orbiterlo, non andiamo a attaccarli, già i primi nemici, sono preso, la guerra, abbiamo vinta, contro il regno, che sta qui, sotto il Marocco, molto rivale, che non fa mai male, e guarda che bello qui, è stupendo, abbiamo sempre troppi imperi, troppi, ma qui è tutto impero, del Maghreb, vedete, che non possiamo creare, pure questo, un peccato, che così, magari, Gurma, ci cascava, visto che si è fatta, il Maghreb, magari, si poteva assalizzare, comunque, qui, vediamo, perché non si può assalizzare, vediamo un po', che lui, un po' ci vuole, per tutte le cose, che si è superiore, quindi, mispa, intanto, diamo, da questi Ducati, ma, cosa più importante, abbiamo una Renew, no, vediamo qui, sì, le città sono quelle in più, dobbiamo dare a qualcuno, creiamo qui il Ducato, così, anche un Regno, si può creare, ma, mi sa che è un po' difficile, per ora, quindi, lasciano stare, il Ducato, creiamo solo il Regno, creiamo solo il Ducato, il Ducato di Zamur, e vediamo, questo ragazzo, che abbiamo, eravamo catturato, in pratica, in Norvegia, semmo, correva contro i norvegisi, contro i finlandesi, e rimasto senza pare, senza famiglia, e senza trono, lo abbiamo fatto spostare, con una Contomatis, e abbiamo dato il Ducato, così, l'abbiamo adesso felice, per esempio, creiamo qui, il massimo di tutte, le abilità familiari, se non avvero, Custom, Warfare, Low, Girl, famiglia di sangue, famiglia erudita, famiglia gloriosa, e anche molto, e, e, calorosa, come famiglia, abbiamo anche preso, quel gastro plusiano, che è rimasto, anzi, è unico dove, è un gastro plusiano, che è rimasto, senza niente, e l'abbiamo messo, in Ducato, e quindi, ora lui, c'è dove era, disponiamo questo, esercito qui, che non ci serve, qui, ci creiamo un artefatto, che noi, accettiamo perché, non penso che non lo stiamo usando, questo artefatto, così non si va a sal, ci vogliamo bene, e nel frattempo, come se ci torniamo lì, a ripeterlo, solamente non lo abbiamo attaccati, e facciamo questo attacco, per far fine qui, la guerra civile, la seconda guerra civile, in meno di due episodi, qui, di ispirazione, creiamo un'armatura, di livello, davvero scarso, questo, ovviamente, se vi ho avuto la guerra, lo, recluteremo, così da, metterlo così, in nostri soldati, avere carriera macello, come si può dire, avere più eterei, che non fa mai male, non è tanto forte, ma alla fine mettiamo lì, mettiamo un livello 3, disbandiamo finalmente tutto, perché lui accetta ovviamente, e, guarda qui che bello l'Italia, che bello l'impero, ora, in pace, noi sempre investiamo soldi, le nostre strutture, qui c'è Nicea, che non è il nostro, Messina, che è mai al massimo, e, anche a Chatlick, là, chiamano così, ci sta, sono costruendo tutto al massimo, qui ci chiedono qualcosa, che rifiutiamo stavolta, qui, possiamo imparare il sebo creato, se vi ricordo male, andiamo a imparare questa lingua, forse un'altra, non mi ricordo ora, e, qui ci, io, invito a qualche festa, penso, sempre che facciamo, a cui c'è una festa, di Duc e di Alessandria, che dopo l'unione del, diciamo, dell'Egitto, ai suoi ducati, si fa una festa, si fa per festeggiare, mi sembra giusto, ci vuole festa in questa famiglia, una famiglia gloriosa, potente, perché abbiamo, ammazzatoci fra noi, pensiamo, se cominciamo di quello che abbiamo, eventi che possiamo fare, che c'è questa festa, dopo la guerra in Africa, il nostro imperatore, intenzione di arrivare, fino all'Indo, e di creare, quel impero persiano, che tanto coniamo, così da poter raggiungere, anche l'obiettivo, quello della, conquista, alexandrina, diciamo così, facciamo questa guerra, ai vari, anche, diciamo, regnanti, islamici, ci mettono così, delle guerre sante, che ci costano poco, e la fede, l'abbiamo tanto, e facciamo anche guerra, questi regnanti indiani, qui, per arrivare finalmente, all'Indo, il nostro grande obiettivo, voglio fare tre guerre qui, contro la grande orde, siamo quelli regnanti, ex, parte del imperomogo, che però adesso, evitiamo, perché non voglio fare, troppo le guerre distanti, siamo a sette guerre, da cui c'è anche una concetta, che non partirà mai, sicuramente, e la nostra potenza, fare guerra, mi sa di no, ancora non possiamo, vassalizzare, è peccato, è un vero peccato, quindi evitiamo per ora, stiamo avendo potente, distante da tutte, abbiamo molte guerre, iniziamo questa guerra qui, chiamando dei meditarms, anche se penso, che in futuro, chiamano altri soldati, perché, gli indiani, non saranno sempre, dei regni popolosi, e quindi anche, con molte leve, ma intanto, partiamo con questa briciola, facciamo un ransom, che accettiamo, altri ransom, soldi che non ci servono, ma alla fine, c'è i danno, o è che no, e si parte ragazzi, con questa guerra, livello 4, anzi livello 5 addirittura, abbiamo una nuova lingua, perfetto, il nostro impiatore, è un uomo, davvero culturato, e si parte, con questa, ennesima serie di guerre, livello 5, che è precisato, perché alla fine, più di tanto, non vogliamo, possono creare, le nostre leate, tra cui la nubia, che è appunto, è conto, ma, adesso, che era in questa guerra, penso, con il regno indiano, qui, non stiamo portando, al tratto, patriarcato, per essere davvero, un uomo, non solo potente, diplomaticamente, un augusto, ma anche, un caofamiglia, eccelso, che ha riportato, molti regni, sotto il, la porpora imperiale, come giusto che sia, qui sono, vari regni, chiamano altri uomini, qui, l'altre leve, per fare guerre, in questa regione, qui, della Persia, settentrionale, e vediamo, un po', come alla fine, anche questa parte, di guerra, una guerra, quanto faticosa, intanto, noi, qui, cerchiamo di creare, un poema epico, per, esaltare, i contumani, su questa, di assia, che partendo, dalla semplicità, di Siracusa, hanno acquistato, un impresso, prima di tutto, il regno di Sicilia, e poi, hanno ambito, alla porpa imperiale, anzi, all'impero bizantino, e poi, farlo tornare all'impero romano, quindi, davvero, una cosa, davvero, gloriosa, guerre, qui, sono un po', faticose, e che hanno, molti eserciti, di, alcune, hanno delle ansie, quanto potenti, e quindi, c'è un pochetto, difficoltà, oggi, sono con me, tal, se qualche esercito, siamo anche, negativi, perché, non, 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 fare, le guerre, non, non, attaccare, una storia epica, che è fatta, dal 1867, ricordiamoci, e ora, concentriamoci su queste piccole, storie, cercano di, facilizzare un po' di tutto, qua c'è un segreto, esposto da, albor, arbor, insomma, da una città, della Sardegna, qui stanno conquistando, quelli ci rompono le scade, andiamo a fare questa, guerra con, diciamo, il duro, un po' più grande, poi, concentriamoci su un nord, e qui, la zona del Caspio, che, ho già, mandato qualche esercito, alcuni, vengono anche dal, avranno anche, mi sembra anche una guerra, contro dei norreni, che si attaccheranno, ancora una volta, qui, quanta guerra vinta, perfetto, da qui che è bello, il nostro impero, che nella Persia, dove nacquero le culture, della zona del Mesopotamia, si stanno espandendo, e presto, prenderemo anche il Mesopotamia, il nostro obiettivo, riprendeci, grazie, come detto, tutto ciò che è nostro, altro cosa che voglio dirvi, è che penso, che vorrei arrivare, fine questa serie, con Conto Madness, con l'episodio, il centesimo episodio, arrivavo al 100 episodi, sui Conto Madness, forse è la serie, più lunga, che abbiamo mai fatto, su un gameplay, soprattutto, su Crusade Kings 3, che si è sempre lunga, ma mai, arrivata a 100, però, è una serie, che mi sta tanto piacendo, perché appunto, stiamo un po' ricostruendo, cioè, freddo molto bene, stiamo muovendoci, sinceramente, sia come famiglia, sia come conquista, in più, con questo desidero, io ho accorto, stiamo vivendo, ancora meglio, quello che, è la corte medievale, quindi, questa mia che diventa giusta, stiamo educando, non so perché, non ho andato all'università, ma, vediamo un po', ci arriviamo dopo, quando arriviamo, al punto carri, e arriviamo, quando sconfiggiamo questi nemici, intanto, vediamo qui, un esercito molto potente, che, i meditarmi stanno esistendo, però, manderei altri uomini, così da, per, distruggere tutti, e così abbiamo fatto, perfetto, qui c'è una colonna, che è distrutta, che dispiacere, e vediamo un po', di uscire a fine, questa è quella, contro, Gurdwyd, e poi, tutte le altre regioni, qui del Caspio, penso che questo sia l'ultima, ora che ci rimane, questo è qui, un punto sul Mar Caspio, dove, che è un po' diviso, però, ce la stanno facendo, qui, la vera loro group, però, Enforce Demand, e anche questa regione, diventa nostra, di diritto, mi sembra che abbiamo tutti, la sezza, dovete qui ora, abbiamo questo duca, possono creare il, il regno, di Corsan, no, ancora non si può creare, possono creare altri regni, come la Transoziana, ma, intanto, è arrivato, nelle rive dell'Indo, anzi, andando oltre, andando appunto, nella zona del, penso del Pakistan, lì siamo, quindi siamo vicini, a una grande impresa, mentre in Africa, questo Canenbornu, non si può creare, ed è davvero un peccato, che altrimenti, possono asserizzare, altri territori, la Nubia, penso siamo alleato, per asserizzare, bisogno dell'impero abissino, che non possono creare, mentre altri qua, nella zona del nord, siamo tutti a posto, ma, fino a qui, i soldi oggi, il nostro impero, che va dalla Spagna, alla Persia, dalla zona dell'Africa, l'Africa Nera, fino alla Scandinavia, la zona della Russia, è un impero davvero, importante, con una grande cultura, un impero, una grande cultura, una ricchezza, grande forza militare, grande economia, insomma, un impero davvero, da ricordare, ma come detto, fino a qui, il risultato di oggi, spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso, invito a lasciare un like, a commentare, e a dire la vostra, quindi, i contomanzi, che prendono tutta la roba, è meravigliosa, in caso non l'abbiate fatto, iscrivete al canale, e attivate la campanellina, se ricevete le notifiche, di un video che usciranno, e vi incontro di esempio, sul canale Viola, lo fruole live, e su vari social, come Facebook, Instagram, TikTok, così per sapere di più sul lavoro, quali vi altri contenuti materiali, le mie offerte, qui facciamo tutti i lavori, del concilio, ma qui ci salutiamo, da Ross Smith Terry, passo e chiudo. Grazie.